Salve a tutti ragazzi e benvenuto in un nuovo video di The Oran Red Come vedete oggi siamo con Europa Universale S4 E ragazzi c'è da dire una cosa, visto che la serie non sta avendo tante visualizzazioni Vedremo questo episodio come andrà, se vedo che comunque il risultato è scarso Mi dispiace per chi magari, pochi che sono interessati alla serie Penso che la bloccherò, perché visto che l'8 maggio uscirà anche il nuovo DLC A sto punto magari proverò a fare una serie sul nuovo DLC Su tutte le cose nuove, quindi magari potreste vederla continuare Se sicuramente la serie avrà un po' di visualizzazioni maggiori Se no, amen, ci vediamo con la nuova serie appunto di Europa Universale Con il nuovo DLC Quali nazioni? In realtà sono indeciso tra varie nazioni interessanti Che possono formare nuove nazioni, con nuove missioni, eccetera Vedremo a momento Detto questo, continuiamo questo episodio, continuiamo la serie E speriamo che vada bene Se no, mal che vada, ci rivedremo con la nuova serie di Europa Universale su 4 Se no, farò tutti e due Detto questo ragazzi, possiamo andare avanti Abbiamo risolto un po' di problemi l'ultima volta Abbiamo, adesso guadagniamo tanti soldi Abbiamo, siamo messi bene Abbiamo recuperato tanto manpower Siamo, cioè adesso abbiamo le possibilità di fare appunto delle guerre Dobbiamo solo aspettare che finisca la tregua con lui Possiamo attaccare queste nazioni che possono essere interessanti Allora Lui Non ci interessa al massimo, potremmo provare a farlo vassallo Poi c'è Kedak che appunto è quello là che volevo conquistare Magari diamo il territorio al nostro vassallo qui Oppure magari ce li prendiamo noi Vediamo, abbiamo tante tante idee che possiamo buttare Tanto uno adesso lo annettiamo come vassallo Al massimo se no facciamo lui vassallo E Facendo lui vassallo Semplicemente andiamo Poi a buttare questa nazione Non ci interessa e amen A meno abbiamo un controllo maggiore in quest'area E ci potrà essere molto utile Vabbè, detto questo possiamo dichiarare guerra Perderò una stabilità per il matrimonio Ma non possiamo perdere altro tempo E intanto Siamo messi abbastanza bene Non so se abbiamo missioni su manpower No, non abbiamo missioni che riguardano il manpower Quindi possiamo già attaccare Potremmo forse aumentare il nostro esercito Cosa che farei adesso a sto punto Profittiamo di aumentare il numero di truppe del nostro esercito Prima di attaccare Facciamo passare un po' di tempo Magari abbiamo la fortuna che il nostro rischiatti E perdiamo sto matrimonio Ma ne dubito Quindi mi sa che scenderemo direttamente in guerra Questa altra nazione non possiamo attaccarla Perché non abbiamo claim E non vale il nostro interesse E anche qua lo stesso discorso Per ora non abbiamo interesse in queste aree Dobbiamo assolutamente vassalizzare lui Così iniziamo a conquistare tutta l'isola Qui ci espandiamo quello che possiamo Con l'aiuttaia sopra la vedo difficile Nella nostra espansione Ah, come era è diventato Bello grossicello Beh, dai Sicuramente la situazione potrebbe volgere al nostro favore Perderemo una stabilità E buona fortuna per la nostra stabilità Abbiamo avuto l'ammiraglio forte Quindi abbiamo qualcuno di utile E andiamo a fare questa guerra Lui non lo possa attaccare Perché era alleato con l'aiuttaia Quindi dobbiamo rischiare uno di stabilità E chiamiamo anche il nostro alleato Perfetto Non ci interessa Perdiamo uno di stabilità Per Interessi politici Intanto abbiamo anche un alleato in più in guerra Quindi ci aiuterà un attimo a tenere Ste truppe di Deli Probabilmente lui si concentrerà a conquistare lui Quindi siamo a posto per un po' E ragazzi questa è una guerra sicuramente non facile Nel senso Potrebbe essere rompiscatole però Noi abbiamo l'interesse di espanderci Abbiamo sacrificato uno di stabilità Ci siamo presi un malus Ma l'abbiamo fatto per un bene più grande La nostra espansione La nostra grande espansione Possiamo chiamare un altro alleato in guerra Ma io lo chiamerei Visto che c'è così perdiamo Meno Truppe possibili Tanto dobbiamo vassalizzarlo Con questa di questi territori Qui penso che sia meglio Fammi vedere È tutto nord Quindi lo darei a questo vassallo Che poi annettiamo Con i punti diplomatici Così ci prendiamo meno malus possibili Annettiamo un vassallo Ci espandiamo in quest'area La nostra influenza Vassalizziamo lui Poi ci espandiamo pian piano Evitando ovviamente Il rischio di esplodere Come nazione Qui abbiamo costruito Le strutture più interessanti Possiamo costruire questo Espandiamoci sempre di più Mostriamo il nostro potere Sempre di più Dobbiamo mostrare i nostri artigli Far vedere al mondo I nostri artigli Importante che la capitale Vada sotto il nostro controllo Perché se no Non posso vassalizzarlo E qui mi incazzerei Niente Oltre questo Dobbiamo solo Avere pazienza Non dobbiamo fare nulla Di speciale La guerra è abbastanza Abbastanza semplice Giusto perché Stiamo andando le truppe qui A morire Faccio prendere il trito No Ok Non so dove stiamo Dove stanno andando Siamo contro qualche nazione Lì sopra No Vai Aumentiamo l'inflazione Per più punti Perfetto Perfetto ragazzi Abbiamo La nostra nuova idea Ovviamente ci buttiamo Su quantità Una militare Possiamo potenziare Le province qui Ok Abbiamo ottenuto Anche le sue truppe Che non ci dispiace Non risparmiamo Soldi per farle E abbiamo ottenuto Anche la sua flotta E abbiamo più navi Ecco a cosa servono I vassali ragazzi Sottomette i vassali Ci aiutano Ah si qua possiamo Togli l'editto Per ora Inutile Perdiamo soldi Per ora Non ho Non so se Aumenteremo l'istituzione So che sarebbe utile Ma Ci costerebbe un casino Di punti Per ora Andiamo con Kama Perché comunque Essendo che è cambiato La funzione Scende un po' Il punteggio Potremmo un attimo Dare un'occhiata A come va Ma questa è stupida Allora Mi sa che faremo lui vassallo Ci faremo lui vassallo E cambio un po' Di piani Ragazzi Cambio un po' Di piani Non pensavo Che il computer Facesse una cosa del genere Anzi Dovrei aspettarmelo In realtà Questo devo passare Al mio vassallo Qui A sto punto A sto provincia Sì H A rivederci Questo lo siamo pure toglie Dalla guerra Questo lo possiamo Vassallizzare Come Volevamo fare Su For Peace E noi ci prendiamo La nostra Provincia E anche i soldi A nulla Trattati Perfetto Abbiamo fatto Il nostro dovere Questo è andato in guerra Ora mettiamo I nostri vassalli Vaffanculo Che Ci servono Che si indeboliscono Tra di loro Zzz Zzz Dobbiamo Adesso fare in modo Che si indeboliscono Tra loro Si ammazzano Tra loro E noi abbiamo fatto Un'altra missione Portiamolo avanti ragazzi Lo so che da bonus Eccetera Ma le porto direttamente avanti Perché tanto Dobbiamo vincere Senza questi bonus Dobbiamo mostrare Le palle Che sono più grosse Degli altri E adesso Abbiamo sicuramente Un buon guadagno Abbiamo un buon esercito Siamo messi bene Abbiamo una buona flotta Adesso Abbiamo una flotta Decente Ecco L'ultima volta La nostra flotta Era debole Ma adesso Abbiamo più potere Ragazzi Abbiamo più potere Dobbiamo solo Sfruttare Il nostro potere Allora Possiamo iniziare A sciogliere Delle alleanze Che magari Non ci servono più L'eleato Machiapahit Machiapahit È ancora vivo Magico Minchia Tutti vogliono La nostra alleanza Siamo così potenti Influenti In questo momento Eh si Mi sembra proprio Che abbiamo Una buona influenza Ma dobbiamo Continuare Ad espanderci Dov'è che dobbiamo Farlo Eh bella domanda Allora sicuramente Ayuttaia Sarà Importante per noi Da conquistare Prima o poi Il problema è che Comunque ha 18.000 Truppe E ha tanti alleati Quindi romperebbe I coglioni Ma non è un tributario De Mingo Quindi attaccarlo Ci metterebbe Contro Ah no Non è un tributario De Mingo Ah A posto Quindi è abbastanza Non ha potere Aiming qui Pensavo di sì Sinceramente In futuro potrebbe essere Che ci scopa Ma Ma Questi sono Grandi dettagli Per noi Poi intanto Abbiamo fatto Il nostro dovere Abbiamo il nostro Vassallo Che è un po' Incazzato Ci sta Abbiamo sottomesso Miglioriamo sicuramente Le relazioni Il prossimo Vassallo Da nettere Ti direi lui Perché effettivamente Non è così potente Ci dà tutte queste truppe Rispetto agli altri Poi gli altri Potrebbero servire Le capitali Per Appunto Oltre il castello Che abbiamo costruito qui Abbiamo letteralmente Tre forti Quindi secondo me Quelli là Per adesso Me li tengo E noi dobbiamo Espandere i nostri domini Su quest'isola Assolutamente Dobbiamo espanderli Quindi andiamo a migliorare Anche le relazioni con lui E iniziamo A pensare La nuova Espansione Del nostro Impero Per ora Che claim Abbiamo Possiamo sciogliere Questa alleanza Possiamo scioglierla Invadere Una prossima Situazione Lui non possiamo Fare claim Perché siamo Lontani Terra incognita Cioè questa Terra incognita Non la vediamo Avrei Potrevo Effettivamente Aspetta Noi ancora Abbiamo sbloccato I punti Ma se facessimo Coloniale Aspetta un attimo Se ci buttiamo Sull'espansione Perché noi abbiamo detto Effettivamente Dobbiamo dominare Tutte le isole Io Io sceglierei Questa ragazzi Sceglierei Questa assolutamente Dobbiamo colonizzare Le isole Effettivamente Sono nostra proprietà Noi abbiamo già dichiarato Che sono di nostra proprietà Quindi Assolutamente Da fare Comenteremo un po' La velocità Visto che siamo Fermi per un po' E vediamo degli investimenti Che possiamo fare Per ora niente E dobbiamo iniziare A espandere I nostri claim Su di lui Quindi Fabricate frame Lo dobbiamo fare Anche su di lui Perché non li abbiamo Infatti Non abbiamo più No Mi spiace Ma sarà invaso La nostra amicizia Termina qui La nostra amicizia Termina In questo momento Quanto abbiamo Di trego Con lui Quattro anni Quindi manco Così No Anche di più Fino a 72 Quindi abbiamo Tempo per Ma ti pare Che perdo Stabilità Uso i soldi Ce li ho Con lui invece La tregua Finisce Tutte due 72 Che palle Che palle Dobbiamo mirare Le nostre espansioni In un altro punto Questo è lato Con Suda E Berau Allora Suda Mi pare Che era Quello Infatti Allora Welcome Plays Sti punti militari Me li prenderei Poi se aumentiamo La tecnologia Qua invece Siamo a 72 Dobbiamo aspettare Per la tecnologia 69 Vabbè Non facciamo tecnologia Perché facciamo il colono Iniziamo a espandere Il nostro esercito Così ci spostiamo In questo territorio Per fare le nostre Invasioni Agli altri regni In queste aree Dobbiamo iniziare A espandere La nostra potenza Nel mondo Potremmo effettivamente Colonizzare Queste terre Inizialmente Dobbiamo Colonizzare Un po' Tutto Ragazzi Ma noi soldi Ne abbiamo Effettivamente Possiamo fare Anche colonie Più grosse Sì La voglia Porca troia Abbiamo Siamo ricchi Cazzo Tantissimo ricchi Abbiamo tanti soldi Sì Allora sfruttiamo Il colonismo Totale E metteremo Faremo amicizia Con gli indigeni Non so Se fare Allora Se li Assimilation Global set Però se li picchiamo Siamo aggressivi Crescono più Velocemente Da vedere Da vedere Vediamo Qual è la cosa Giusta da fare C'ho delle province Che sovranno Ribellare Così a random Ah Per la fede Diversa Paga Sì Ma questi rompono In scatola Per un po' Di fede Mamma mia Che poi Ho pure tolleranza Ah Vabbè Meno uno Vabbè A sto punto La convertiamo Ragazzi Convertiamo la provincia Abbiamo pochissimo Manpower Pochissimo Manpower So che forse quantità ci avrebbe aiutato tantissimo Però Però Non dobbiamo Buttarci giù Abbiamo la tecnologia Migliore dell'aria Probabilmente Stiamo indietro Con la tecnologia Immaginavo E ragazzi Serve colono Abbiamo La tregua Quindi sfruttiamo L'espansione In un altro modo Potremmo effettivamente Colonizzare Questo territorio E clemare Questa zona Questo alleato Con pale Non sarebbe Proprio malissimo Come idea Io direi di Fare questa provincia Clemare lui Così lui ci scioglie L'alleanza Mangiamo sia lui Che lui Quindi espandiamo Il nostro regno Qui Ce le prendiamo Queste province Perché avere troppi massali Adesso Ci costerebbe Tanto Adesso Se vedere Sono hanno desiderio Libertà Abbastanza alto Quindi vuol dire che Non ci temono Così tanto E sposterei L'esercito In quest'area Intanto possiamo fare Claim Intanto qui Fabricate claim E uno L'abbiamo fatto Andiamo a farlo Anche su di lui Così abbiamo Due claim Già pronti Spostiamo Il nostro esercito Il nostro Potere militare Nell'area Che ci interessa Ed ecco qua Il colono Possiamo passare Un attimo L'acetà A questo punto Allora Fermiamo un attimo L'amicizia Con uno dei nostri Vassalli Lui Che tanto L'abbiamo Innesso da poco Mettiamo Global set Vai Picchiamoli Siamo aggressivi Siamo cattivi Vogliamo sottomettere Tutti i popoli Di quest'area Senza Spaventarci E niente Prendiamo 10 prestigio Sti cazzi Dobbiamo Espanderci Subito Con Cattiveria Aggressività A sto punto Colonizzerei Prima tutte queste Isole Non dovremmo Metterci Molto Eh ragazzi Ragazzi È momento Di fare Fabric Red Cream Anche con lui E possiamo Richiamare il nostro Colono Da quest'area Vi spiego Perché A breve Direi prima Queste domini Da troppo fastidio Avere le isole Così Vi spiego Il motivo Di come mai Questa scelta Personale Semplice Questa Colonia Continuerà a crescere Lentamente Vero Ma possiamo Sfruttare Due coloni In uno Quindi noi Abbiamo tanti soldi Possiamo Permerterci Di spendere Soldi Per le colonie Investiamo Sulle colonie Colonizziamo Due territori Alla volta Prima Che arrivano Gli europei Nella nostra area So che ci vuole tempo Però Vedete Noi possiamo Mantenere Due colonie Tranquillamente E adesso Il colonialismo È appena iniziato Anche da parte Del malacca La grande Espansione Del nostro Impero Sta per Iniziare Ragazzi Malacca Diventerà Uno Degli imperi Più potenti Dell'Asia Il vero Impero Asiatico Sta per Arrivare Allora Tre Vassali Allora Tre Vassali Sicuramente Lì possiamo Tenere Sai cosa Proverai A vassalizzare Lui Lui Lo vassalizziamo Lui lo Conquistiamo Ci teniamo Quattro Vassali Va bene Spendiamo I soldi Investiamo Nelle colonie Assolutamente Per me Va bene Investire Nelle colonie A breve Sblocchiamo La nuova tecnologia Militare Anche Quindi siamo Messi Abbastanza Bene Dobbiamo Aspettare I claim Dai Mettiamole Ci da 4 Spero che Non si Ribella Adesso La colonia Che non Ci rompino I Coglioni Perché Dobbiamo Un attimo Prepararci Per la guerra Va a finire Che perdiamo La colonia Qui Dobbiamo fare Attenzione Ho messo Che siamo Aggressivi Quindi Purtroppo Questo comporterà La presenza Militare Sui territori Sono 2000 Nativi E non Sono nulla Però Uno potrebbe Scegliere L'altra opzione Ma Le colonie Non crescono Più Alla fine Perdi un sacco Di tempo Per farle Crescere Ecco appunto Però Questa Non è un problema Fortunatamente Quella più Debole Che possiamo Non si Rimarrà così Per tutto il tempo E la colonia Cresce Come sfruttare Questa cosa A tuo vantaggio Bye Oran Red Niente Investimenti I soldi Li conserviamo Per ora Aspettiamo Il giusto investimento Infatti Non ci fa passare Il nostro compare Allora Non possiamo Ah possiamo Farlo Ok Dobbiamo annettere Questo vassallo Ah già lo stiamo Facendo Ah perché Abbiamo meno uno Va bene dai Iniziamo già a farlo Usiamo i punti Tante ne abbiamo Tantissimi Siamo molto Sviluppati Abbiamo Un re Nel senso Che magari Preferisco Questo qua Sono sincero Visto che stiamo Puntando su Basta Madonna santa Sta nazione Più malus Lega Vabbè Non come l'Africa Assolutamente Non perdiamo La colonia Ragazzi È molto importante Per noi Tenercela Bella chiara Chiara 113 Sì A voglia Ci svilupperemo Sicuramente In modo veloce Dai Su su Veloce Veloce Oh Finalmente Fabricate claim Andiamo a prenderci Un po' di province Anche dal nostro Caro amichetto E possiamo scendere In guerra Contro i nostri Nemici È stato un piacere Palenbarg Essere Tuo amico Assolutamente È stato Un onore Per me Samurai Abbiamo sbloccato Asian Step Cavalry Questo mi piace Di più Poco morale Ma tanto shock Allora Intanto noi Abbiamo le navi Sfruttiamole Così conquistiamo Subito la provincia Partiamo Con 16% Di worst core Senza aver fatto Nulla Minchia Colone Arrange Vabbè Non ci serve Ma Ci abbiamo Solo questo Vorrei questo Uno migliore Abbiamo Eh ma Troppi soldi Poi Non ce lo facciamo Mantenerli Ma dove sono io Ah Giusto I miei vassalli Zzz Ho messo Sopporto Ho sbagliato io Amen Mi sono dimenticato Ma dove sono tutte Le troppe Dei miei vassalli Ah Questi hanno Tutti i reggimenti Tutti i reggimenti Ma vi rendete conto Scioccante Sono molto scioccato Da questa cosa Sì Mercantilismo Sempre Sempre Mettiamo a 4 Se no Qua l'assedio Finirà domani Stiamo perdendo Troppi uomini Per questo Assedio Non possiamo Toglierli Perché questo Mi attacca Siamo che non duri Troppo Se ne perdiamo Troppo Manpower Qui Io sono Scioccato Di come I miei vassalli Ecco Abbiano Totto le troppe Ok Lui Io ho fatto Il castello Ci sta Ma Siac Non capisco Come mai Vabbè E' vero che sono Interessato Alla flotta Che è l'esercito Perché tanto Soldati Ne abbiamo Per ora Vedi Non sto capendo Quella flotta Che sta facendo Ma è un bug Ragazzi Cosa sto vedendo Ah vero Perché hanno conquistato La nostra colonia Ah no Niente Pensavo che Stavo risparmiando Sulla colonia Invece Credo sia Firmasi Infatti Giusto Ci sta Qui la colonia Cresce Voilà Colonia Liberata Andiamo avanti Abbiamo finito Una tregua Con lui Si Possiamo anche Attaccare lui Dopo Posso addirittura Farlo Vassallo Pensa un po' Potrei farlo Vassallo Ma preferisco Quello lì Piccolino Perché va a finire E' vero che stiamo Nettendo Siak E lui c'è il forte Che non sarebbe Male Data natural Come vassallo Questa è una bella domanda Però è troppo grande Troppo potente E in più Prendo Malus Non posso manco Prendere tutte le province Mi sa Si prendo 60% Sacrificare quello E farei così Perfetto Così Abbiamo preso Noi Il castello E lui Possiamo Eliminarlo Totalmente Gli lasciamo Una provincia Poi la conquistiamo Senza problemi Se no Abbiamo troppa Espansione Aggressiva Già ci odiano Un po' Di gente Ci odia Un po' Di gente Ma questo Non è un problema O forse Dipende Boh dai Abbiamo sconfitto L'esercito Castello Livello 3 Dividiamo L'esercito Ci muoiono Le truppe Passa Un Mille uomini E questi Possiamo spostare Tanto Generale Comunque Non ha sedio Passiamo La flotta Da quest'altro lato Anzi no La flotta Non la portiamo Infine Ci mettiamo Un po' Di più Però non Non perdiamo La flotta Mi serve La sua flotta Non voglio Distruggere La mia Futura flotta Va nel mio Interesse Personale Ribelli Oh Buono Inca Inca male Questo Al momento giusto Assolutamente Assolutamente Sì Abbiamo ottenuto Popolazione Qui Tanto infatti Mettiamo le truppe Qua già sopra Ora mi dimenticavo Vedi Mettiamo le truppe Lì Che così La colonia Non avrà Problemi Oddio Mia Santa Certo che Gli estate Rompono proprio Il cazzo Che voi Non avete La cosa Che odio Di più Sono proprio Gli estate Mamma mia Non è già loro Che le hanno inventate 234 Questa colonia 327 Le popolazioni Crescono Quelle indigene Allora qua potremmo fare questo Ma non ci interessa Dobbiamo aumentare la tecnologia Per permetterci di costruire Ma Io ora ci ho pensato Perché questa è un po' Struzione Ah Amministrativa 6 Pensavo che era 5 Pensa un po' La vecchiaia si fa sentire A un certo punto Dobbiamo uccidere Quelle truppe Dai Siamo a 5 Qua Se no Dormiamo Finiamo domani Gli assedi Le assedi di Europa Universalist Sono una pesantezza Inadeguata Stiamo perdendo Truppe a manetto Monpower a manetto Soldi vai Noi vogliamo sempre soldi Tra poco Non abbiamo più Monpower E ora ne perdiamo altro Fate un po' Voi Oh Gesù mio Non posso perdere Autonomia Servono soldi E niente Abbiamo finito Il manpower Per la millesima volta Dobbiamo mandare Tutte le truppe Ad assediare Lì E mi sa che devo fare Pure un'altra cosa Adesso Guarda tu cosa Devo rincorrere Mamma mia Abbiamo truppe Ragazzi Beh Qua Non è che mi dispiace Farlo Però dice Belitur Ah Quella provincia Lì nel mare Ok Vabbè La cremiamo L'altra volta Ribelli Ma che palle Cioè ora devono esplorare Tutti i ribelli Ma vi rendete conto Nome di Dio Andiamo a uccidere Cioè ma che sfiga Nella vita Ci vuole una sfiga Che voi non avete idea Una sfiga disumana Pure Qualcos'altro Non lo so Me vuole mettere anche Un dito in culo Magari Può essere che mi piace Mi sbaglio Ho avuto un po' Di fortuna E c'è gente Che vuole la mia Alleanza Io credo di aver avuto Un po' Di fortuna Oggi Probabilmente Allora ragazzi Credo che noi Abbiamo avuto Un po' Di fortuna Che se noi Facciamo passarlo lui Cosa che faremo Ovviamente Siamo in guerra Difensiva Forse abbiamo avuto Una piccola fortuna Forse dico Forse abbiamo avuto Una bella Fortuna Con quest'area Queste province Le diamo al nostro Vassallo Qui Ci salviamo un po' Di piccoli problemi Intanto abbiamo Bei forti I vassallo Qui c'erano dei forti Qui non abbiamo Forte Abbiamo la capitale Più quel forte Più questo forte Che non sarebbe Per niente male Più il forte Di questo vassallo E qui vedremo Come comportarci Effettivamente Spandaci ancora Non so se ci conviene Perché non so Chi ci potrebbe fare La coalizione Lo scopriremo però Nel prossimo episodio Ragazzi Ci fermiamo qui E oggi Abbiamo Mostrato La potenza Di Malacca In pochissimo tempo E stiamo Anche colonizzando Potrebbe Essere vantaggioso Per noi Quello che è successo Lo scopriremo Comunque Nel prossimo episodio Se ci sarà